Bus sommatore Allora per spiegare il concetto di bus sommatore si utilizza spesso un simpatico esempio Se c'è un segnale che deve andare da una macchina, da un macchinario all'altro è necessario che questo segnale prenda un taxi cioè prenda ad esempio il cavo microfonico per collegare l'uscita del microfono all'ingresso del mixer invece nel caso in cui ci siano vari segnali che devono spostarsi e andare tutti nella stessa medesima direzione esiste il bus sommatore in pratica il bus sommatore è il circuito che permette la somma di più segnali per ottenere un unico segnale cioè un circuito composto da vari elementi che fanno in modo che le uscite dei vari canali si sommino le une con le altre a creare un unico segnale tira fuori il tuo blocchetto post it e segna questa frase ad ogni bus corrisponde un'uscita fisica del mixer se io ti dico bus, tu che cosa dici? corrisponde un'uscita fisica del mixer giri il mixer e trovi le uscite fisiche, i connettori che fanno riferimento a un determinato bus sommatore dunque la stereofonia è nata dalla ricerca intrapresa nei laboratori EMI come forse abbiamo già detto e viene brevettata dall'ingegnere Bloom Lane nel 1931 lo standard stereo perciò ha molti anni dal 1931 ad oggi se ne sono costruiti di mixer i costruttori sanno che la stereofonia è uno standard e quindi le uscite principali di tutti i mixer del mondo sono uscita left e uscita right le uscite con i rispettivi fader master di livello fanno capo, fanno riferimento a due bus sommatori il bus sommatore left e il bus sommatore right detto questo possiamo parlare di pumpot allora il pumpot detto anche potenziometro panoramico è quell'oggetto sul canale del mixer che mi permette di inviare il segnale del canale più sul bus left o più sul bus right in pratica posso decidere la posizione dello strumento destra o sinistra grazie a questo potenziometro panoramico il pumpot a differenza ad esempio del preamplificatore o dell'equalizzatore che sono elementi attivi per così dire, hanno necessità di una alimentazione perché devono operare dei guadagni quindi aumentare ad esempio il livello del segnale nel caso del preamplificatore ma anche nel caso dell'equalizzatore abbiamo la possibilità di aumentare quindi di dare una certa amplificazione solamente a una certa fascia di frequenze il pumpot è un elemento passivo infatti viene denominato anche come ripartitore in pratica il segnale in uscita dal canale viene ripartito tra il bus left e il bus right grazie proprio all'utilizzo di questo elemento facciamo un esempio numerico ammettiamo di avere un segnale in uscita dal canale di un volt per esempio il segnale del microfono della voce del cantante se il pan è centrale la ripartizione del segnale che va sul bus left e sul bus right sarà di 0,5 volt e 0,5 volt cioè da un volt il pumpot divide il segnale in due 0,5 volt viene assegnato al bus left e 0,5 volt al bus right se invece il pan è completamente girato a sinistra se il canale si dice panpottato a sinistra la ripartizione del segnale tra i bus sarà di 1 volt sul bus left e di 0 volt sul bus right viceversa se il canale è panpottato a destra la ripartizione sarà di 1 volt sulla destra e 0 volt sul bus left spesse volte sui mixer possiamo anche trovare dei canali stereo cioè dei canali all'interno del quale transitano due segnali per esempio solitamente sono i canali nei mixerini più economici canali per collegare la piastra cassette o il lettore cd dove troviamo una connessione left e right in pratica tutti gli elementi del canale preamplificatore, l'equalizzatore e il fader lavorano su entrambi i canali quindi operano le medesime variazioni sia sul canale per esempio left che sul canale right nel caso di canali stereo perciò non si parla più di panpott ma si parla di balance in pratica il balance non è altro che un doppio attenuatore cioè se io giro questo pan che in realtà non è un pan ma è un balance nei canali stereo verso destra non sto facendo altro che attenuare il canale di sinistra viceversa se giro il balance verso sinistra sto attenuando il canale di destra e quindi ho la sensazione sonora di un segnale che si sposta a destra o a sinistra però l'elemento balance probabilmente sicuramente l'avrai incontrato sui tipici hi-fi di casa è presente questa dicitura balance e infatti non è un potenziometro panoramico è un balance, un doppio attenuatore ritorniamo però all'esempio dei vari canali della batteria quindi abbiamo effettuato il soundcheck abbiamo creato il nostro bel bilanciamento adesso si sta svolgendo il concerto come faccio ad ascoltare un solo canale come ad esempio il canale di cassa durante il concerto perché magari voglio andare a verificare alcune cose se la timbrica è corretta se non ci sono dei problemi come posso fare? o chiedo gentilmente al pubblico di avere un attimo di pazienza e di farmi ascoltare solamente il canale di cassa e quindi dico a tutti i musicisti di stare zitti di stare fermi e dico al batterista di suonare la cassa oppure utilizzo questo favolosissimo pulsante di solo che mi darà proprio la possibilità di ascoltare in una certa maniera solamente uno o più canali in pratica pigiando lo switch solo su un canale il segnale di quel canale viene anche inviato oltre al bus left e right attraverso il ripartitore di pan anche al segnale solo quindi non è che non sto sottraendo del segnale che sta andando alle uscite left e right quindi il concerto sta continuando la cassa continua a sentirsi anche il pubblico sente la cassa però io nel frattempo posso ascoltare la cassa inviando il segnale del canale di cassa al bus solo il bus solo oltre ad avere una propria uscita dedicata come tutti gli altri bus della console tra cui anche left e right come abbiamo già detto viene anche dirottato automaticamente sull'uscita cuffie e quindi posso avere una visualizzazione del livello del segnale sul meter master della console quindi l'uscita cuffie generalmente se non c'è nessun pulsante di solo lavora sulle uscite left e right quindi posso ascoltare in cuffie esattamente quello che esce sull'impianto avrò poi un comando di trim per settare correttamente il livello di cuffia nel momento in cui viene pigiato un pulsante di solo nell'uscita cuffia esce proprio quello strumento che sto andando ad indagare il punto di prelevo del segnale viene deciso mediante un'impostazione nella parte master nella parte master ci troviamo di fronte a uno switch denominato PFL o AFL che proprio ci dà la possibilità di modificare il punto di prelevo del segnale che viene inviato al bus solo PFL sta per pre-fader listening ossia vado ad ascoltare un segnale prelevato a monte del fader pre-fader in questo caso non essendoci attenuazione del fader il livello del segnale che transita sul bus solo è il livello praticamente preamplificato preamplificato e poi che ha subito alcune variazioni magari grazie all'equalizzatore però sicuramente non attenuato dal fader AFL sta per after fader listening in pratica il segnale che viene inviato al bus solo viene prelevato post fader e quindi se ci sono dei guadagni o delle attenuazioni più probabilmente da parte del fader queste agiranno sul segnale che viene inviato anche al bus di solo prendiamo ad esempio il caso del charleston il canale di charleston molto spesso subisce un'attenuazione da parte del fader cioè effettua la preamplificazione nello stesso modo in cui abbiamo visto prima per ottimizzare il rapporto segnale rumore tuttavia nel bilanciamento generale del mix della batteria il canale di charleston subirà sempre un'attenuazione da parte del fader perché altrimenti avremmo una batteria che suona solo sugli alti si sente solo il charleston invece abbiamo bisogno anche di cassa, di rullante quindi il fader notoriamente viene tenuto bassino ora se io mentre sto ascoltando in cuffia il charleston in solo decido di ascoltare lo stesso identico canale in solo però in modalità PFL quindi da after fader mi switcho in pre fader listening ci sarà un dislivello mostruoso per l'appunto di livello questo perché? perché il fader essendo in attenuazione fa arrivare al bass di solo un segnale fortemente attenuato rispetto al segnale preamplificato e basta ecco perché nelle console più grosse esiste un trim quindi un potenziometro che mi dà la possibilità proprio di riequilibrare questo dislivello in effetti perché dovrei cambiare modalità di ascolto tra pre fader e after fader listening diciamo che l'impostazione after fader listening viene utilizzata solitamente per un ascolto sommativo dei canali quindi voglio ascoltare il bilanciamento di tutti i canali della batteria oppure il bilanciamento delle tastiere rispetto alla voce rispetto alle chitarre quindi sul bass solo transiteranno vari segnali provenienti da vari canali viceversa solitamente l'opzione pre fader viene utilizzata semplicemente per sentire un canale alla volta cioè non ha senso effettuare delle sommative di canali ascoltandoli pre fader perché per l'appunto non c'è un bilanciamento corretto siamo di fronte a dei segnali standardizzati giusti di livello per transitare correttamente nel mixer ma non artisticamente dosati gli uni rispetto agli altri e quindi le due opzioni hanno proprio modalità di impiego differenti per quanto riguarda la sezione pre ascolti nella parte master dei mixer di un certo livello quindi mixer costosi sono previste anche altre due opzioni l'opzione input only e l'opzione sommativa l'opzione input only è per l'appunto utile in caso di pre fader listening cioè voglio sentire i vari canali in solo singolarmente quindi sentire se le equalizzazioni sono corrette se ci sono dei problemi ad esempio voglio sentire il come suona il canale di rullante clicco il pulsante di solo sul canale del rullante dopodiché decido invece di ascoltare il canale della batteria sempre in solo allora clicco il pulsante di solo sul canale della batteria e automaticamente il solo del rullante viene annullato quindi input only fa in modo che io possa sentire sul bus di solo uno strumento alla volta o un canale alla volta la modalità sommativa invece è più utile nel caso di after fader listening perché per l'appunto mi dà la possibilità di cliccare vari pulsanti di solo assieme per sentire il bilanciamento complessivo dei vari strumenti gli uni rispetto agli altri essendo molte volte il bus solo un bus mono la sommativa perciò verrà effettuata senza tener conto dell'impostazione di pan e in effetti il segnale che viene indirizzato al bus di solo dal canale viene prelevato in una posizione post fader ma pre-pumpot alcuni mixer veramente grossi come per esempio l'heritage 4000 che abbiamo visto prima hanno invece due differenti configurazioni di bus in funzione del solo pfl e afl cioè c'è un bus dedicato all'ascolto pfl che quindi viene effettuato comunque in mono e due bus mono dedicati all'ascolto after fader listening quindi il segnale viene prelevato in quel caso post pan e la stereofonia viene mantenuta c'è da segnalare inoltre sulle console da live sempre molto grosse la modalità solo in place che non fa riferimento ad un particolare bus è una modalità particolare che viene utilizzata solamente durante il soundcheck è il metodo più veloce per mettere in mute tutti gli strumenti che non mi interessa tutti i canali che non mi interessa ascoltare in quel momento quindi se ho sulla parte master selezionata la modalità solo in place ogni volta che clicco il pulsante solo su un determinato canale tutti gli altri canali vengono esclusi la modalità solo in place ha una modalità automaticamente sommativa questo è importante saperlo perché sui nostri software di sequencing e di recording molto spesso è abilitata di default questa opzione cioè come nei mixer da studio il solo può avvenire non attraverso un determinato bus ma semplicemente facendo in modo che tutti gli altri canali che non mi interessano vengano messi in mute dunque per adesso sappiamo che sulle nostre console da live front of house ci sono sicuramente tre bus sommatori bus sommatore left, bus sommatore right e bus sommatore solo per soli PFL e AFL ad ogni modo in tutti i mixer del mondo sono presenti anche altri bus sommatori ed in particolare i bus ausiliari i gruppi audio e le matrici che te la dico così prendila come una nota puoi segnarla da qualche parte ma non la indaghiamo in questo video le matrici sono le mandate ausiliarie dei gruppi adesso ti spiego cosa sono le mandate ausiliarie che cosa sono i gruppi le matrici sono le mandate ausiliarie dei gruppi comunque le matrici non le affrontiamo partiamo dai bus ausiliari allora per spiegare a che cosa servono i bus ausiliari dobbiamo fare un passetto indietro e ritornare sul discorso della manipolazione sonora abbiamo detto che esistono due tipi di manipolazione sonora la manipolazione dinamica e la manipolazione di colore allora la manipolazione di colore si fa quando i connotati del mio segnale sono a posto ho già fatto la chirurgia estetica il mio segnale suona già bene il mio suono di chitarra è già bello il mio suono di voce è equalizzato giusto è compresso giusto mi piace così com'è ora però desidero aggiungerci del colore su quel segnale quindi desidero fargli il trucco desidero fargli il make up la faccia mi piace non gliela devo cambiare la chirurgia estetica l'abbiamo già fatta adesso ci mettiamo del trucco su quella bella faccia cioè i connotati del segnale mi piacciono però desidero aggiungere ad esempio una spruzzata di reverbero un po di delay così per dare una collocazione spaziale alla sorgente in un ambiente che in realtà non esiste un ambiente virtuale lo ricreo io artificialmente con dei processori con dei reverberatori con dei delay per dare una sensazione psicoacustica di ambienza al segnale musicale parliamo del reverberatore il reverberatore ha una serie di parametri che permettono di impostare la risposta acustica di una stanza virtuale anzitutto posso scegliere il tipo di stanza tipicamente possiamo scegliere tra delle concerto delle room degli algoritmi che fanno suonare il reverberatore in maniera differente cioè scelgo il tipo di di stanza una cava una una grotta una chiesa eccetera eccetera il tempo di reverbero cioè quanto è lunga la coda del reverbero quanti secondi ci mette il suono a decadere del tutto la quantità e il tipo di prime riflessioni la tempistica con le quali le prime riflessioni arrivano all'orecchio diciamo tutti quei parametri che comunque descrivono anche nella realtà l'acustica di una stanza ed infine sicuramente su tutti i processori di questo tipo è presente il controllo mix che mi consente di impostare la quantità di segnale asciutto in uscita dal processore rispetto alla quantità di segnale reverberato quindi ho la possibilità di mixare il segnale asciutto e il segnale reverberato in uscita dal processore con una certa quantità più segnale reverberato oppure più segnale asciutto quindi meno reverbero e così via quindi un primo modo per procedere potrebbe essere proprio inserire in insert ormai sappiamo che cos'è l'insert il riverberatore ed usare con il comando mix una certa quantità giusta di effetto sopra il segnale asciutto questo modo di operare però presenta due grossi svantaggi anzitutto la qualità del riverberatore cioè il mio riverberatore deve essere un riverberatore perfetto ottimo dal punto di vista hardware e quindi deve costare molto solitamente invece le case produttrici di effetti tipo riverberatori o delay eccetera eccetera preferiscono investire nella realizzazione di prodotti con degli algoritmi spaventosi quindi che hanno delle risposte acustiche particolari spettacolari bellissime però investire meno dal punto di vista hardware della macchina e quindi se una macchina è costruita in maniera più economica dal punto di vista hardware sicuramente il mio segnale che ci faccio transitare attraverso verrà penalizzato perché passa attraverso dei circuiti che non sono dei circuiti perfetti dei circuiti che suonano molto bene e cattura tutta una serie di sfortune chiamiamole così una serie di difetti che vanno ad inficiare i miei connotati i connotati del segnale che io con tanto amore avevo equalizzato e compresso avevo reso così di un certo tipo ecco subentra può subentrare della distorsione magari il segnale si incubisce insomma perde un po di verità eccetera eccetera il secondo grande svantaggio che ho nell'utilizzare dei processori di colore in insert è che se voglio processare vari canali quindi vari strumenti voglio dare un po di reverbero alla chitarra un po di reverbero alla voce un po di reverbero alla batteria devo avere tre quattro cinque dieci reverberi a seconda di quanti sono i canali che mi interessa processare non solo devo anche cablarli in insert devo settarli uno ad uno diventa molto dispendioso in termini sia di risorse economiche che di tempo abbiamo detto che il tempo è preziosissimo nelle operazioni da live ma in questo caso è un discorso valido anche per le metodologie da studio costa meno comprare un reverbero che è buono che dieci reverberi buoni per intendersi per questa ragione sono state inventate le mandate ausiliarie che cosa sono le mandate allora concettualmente si lavora in questa maniera quando si opera processi di colore mediante le mandate ausiliarie mettiamo ad esempio di avere su un determinato canale del mio mixer un segnale di chitarra elettrica proveniente da un microfono posto davanti all'amplificatore oppure la stessa cosa è valida anche nel caso di una voce allora il risultato che voglio ottenere è fare in modo che il segnale di chitarra elettrica venga reverberato quindi voglio utilizzare anche un processore che ricrea un'acustica virtuale per contestualizzare diciamo così quello strumento nel mix e quindi dare una collocazione psicoacustica allo strumento all'interno del mixaggio quindi per fare questo si opera in questa maniera anzitutto il segnale della chitarra transita attraverso il canale e giunge alle uscite left e right attraverso i bass sommatori left e right dopodiché lo stesso segnale della chitarra viene inviato al processore di colore quindi questo processore effetto attraverso ad esempio un dsp quindi dei calcoli e in uscita restituisce il segnale del reverbero quindi l'acustica della stanza a questo punto vogliamo fare in modo che il segnale asciutto della chitarra venga mixato con il segnale diciamo così bagnato quindi il reverbero prodotto dal reverberatore sollecitato dal segnale della chitarra e questo nella pratica avviene nei bass master della console quindi il mixaggio non avviene attraverso quel dosatore particolare del processore quel dosatore mix che mi dà in uscita dal processore un po di segnale wet un po di segnale dry il mixaggio avviene proprio nella console nei bass master quindi i bass che portano le uscite left e right i bass ausiliari sono dei bass e sono identici ai bass master cioè sono dei bass che servono per mixare sui bass master io creo dei bilanciamenti con i fader ed in uscita ho un segnale di vari canali mixati tra di loro la stessa cosa avviene nella stessa identica maniera nei bass ausiliari ogni canale possiede un dosatore che è un potenziometro rotativo simile a quello del pump pot o del gain detto mandata ausiliare e ne ha uno per ogni bass ausiliario presente sulla console se il mio mixer ha otto mandate ausiliari su ogni canale posso trovare otto potenziometri rotativi che sono delle mandate ausiliari e fanno riferimento ognuna ad un bass differente le mandate ausiliari sono circuiti attivi quindi a differenza del pump ad esempio che avevamo visto prima essere un dosatore passivo un ripartitore passivo cioè in pratica ogni volta che apro una mandata ausiliaria avviene uno sdoppiamento del segnale in maniera che il segnale che viene inviato al bass ausiliario non viene sottratto al segnale che invece viene inviato al bass left e right della console per esempio il segnale inviato al bass ausiliario può essere prelevato sia a monte che a valle del fader in funzione dello scopo che mi sono prefisso quindi del risultato che desidero ottenere quando ad esempio è necessario che una mandata ausiliaria prelevi il segnale post fader proviamo ad immaginare che cosa avviene all'interno di una chiesa acusticamente parlando ammettiamo ad esempio che ci sia una sorgente sonora una persona che parla ad esempio se la sorgente sonora emette piano quindi c'è una persona che bisbiglia allora la chiesa non risponderà acusticamente in maniera preponderante non abbiamo un grande reverbero viceversa se ad esempio cade una sedia o se c'è un rumore molto forte quindi una sorgente che emette in maniera forte ecco che avremo anche una certa quantità di risposta acustica diciamo così dalla parte dell'ambiente da parte della chiesa questo è proprio lo scopo che voglio ottenere cioè voglio ricreare virtualmente con il mio processore con il mio reverberatore una collocazione spaziale della sorgente però rispettando i canoni psicoacustici che governano il fenomeno in pratica se il cantante canta piano voglio che abbia meno reverbero non voglio che il reverbero continui a imperversare anche quando il cantante sussurra viceversa quando il cantante urla desidererei che anche il il riverbero aumentasse quindi la sensazione acustica del riverbero aumentasse facciamo un po di psicoacustica spiccia la chiamata se chiudo gli occhi io sono in grado di capire se una sorgente è vicina o lontana da me non tanto per una questione di livello sonoro quanto per per proprio una connotazione spaziale che il mio cervello in grado di individuare grazie a anche alle informazioni acustiche derivanti ad esempio dal reverbero della risposta acustica della stanza più solo sono lontano da una sorgente più le mie orecchie sono influenzate dall'ambiente circostante quindi io capisco che la sorgente è lontana da me ad esempio una cannonata per esempio che arriva da 100 metri se è sparata da una cava per esempio comunque vicino a una montagna potrebbe giungere al mio orecchio con la stessa identica pressione sonora di una voce parlata ad un metro però con una notevole quantità di riverbero aggiunta proprio perché le mie orecchie sono molto lontane dal cannone e quindi sono anche influenzate dalla risposta acustica dell'ambiente che circonda il cannone detto questo possiamo dedurre alcune leggi fondamentali alcune regole spicce ma fondamentali per l'utilizzo del riverbero nel mixaggio uno strumento con un livello alto e poco riverbero psicoacusticamente parlando è uno strumento che è molto vicino quindi anche nel mixaggio se io voglio dare la sensazione che il cantante sia vicino sicuramente non metterò molto riverbero perché altrimenti sempre psicoacusticamente parlando all'ascoltatore sembrerà al cervello dell'ascoltatore illuso sembrerà che il che il cantante sia a 100 metri di distanza comunque lontano viceversa uno strumento con livello basso e molto riverbero è uno strumento lontano lontano cioè la cannonata di cui parlavamo prima il livello non è un livello altissimo perché la cannonata arriva da lontano quindi la pressione sonora è la stessa identica che mi procurerebbe una persona davanti a me che parla con un tono normale ecco invece uno strumento con un livello alto e con molto riverbero è uno strumento potentissimo e molto lontano quindi anche per rendere una sensazione di uno strumento per esempio esempio tipico ho alzato il dito indice anche se non mi vedi per dire mi è venuta un'idea l'esempio classico il rullante allora il rullante solitamente nel mix è tenuto molto alto ed ha un sacco di reverberano e quindi questa cannonata gigantesca di rullante ci dà la sensazione di un rullante potentissimo e lontanissimo quindi proprio un rullante fortissimo e questi spedienti psicoacustici si utilizzano nei mixaggi proprio anche utilizzando i reverberatori e i processori con le mandate ausiliari e quindi dosando i livelli sulla mandata ausiliare nella stereofonia grazie alle mandate ausiliari è possibile creare piani sonori si definiscono così che si estendono a partire dagli altoparlanti indietro cioè avevamo detto che con la stereofonia è possibile ricreare delle sorgenti fantasma comprese tra l'altoparlante di sinistra e l'altoparlante di destra in una situazione stereofonica ebbene col riverberatore grazie all'utilizzo del riverberatore sempre nella situazione stereofonica siamo in grado di definire quanto uno strumento sia vicino rispetto a quanto un altro strumento possa essere invece più lontano proprio utilizzando le mandate ausiliari e il processore è in questo modo che si crea la profondità quella che viene definita la profondità di un mix il fatto che chiudendo gli occhi se tu sei davanti a un ottimo sistema d'ascolto se chiudi gli occhi puoi quasi allungare la mano così il tuo cervello può immaginare che ci sia una disposizione degli strumenti anche che rispetta una certa profondità oltre che una certa posizione rispetto a destra e sinistra la sensazione di profondità però non viene sempre e solo ricreata utilizzando dei reverberatori artificiali può essere infatti ricreata proprio con la posizione dei microfoni che stanno riprendendo ad esempio un coro se la coppia stereo che sta riprendendo un coro è molto vicino al coro il reverbero avrà meno influenza su quella coppia stereo viceversa se il sistema microfonico è spostato lontano sarà predominante o pressoché totale l'influenza della risposta acustica della stanza quindi a livello psicoacustico chi ascolta la registrazione può immaginare il coro come un coro distante in un certo ambiente se il segnale viene prelevato post fader perciò rimane inalterato il rapporto tra suono diretto e suono reverberato e noi abbiamo raggiunto il nostro scopo in che senso nel senso che se io sto utilizzando il fader per dosare il la quantità di segnale proveniente dal canale della voce del cantante e quindi sto alzando diciamo il cantante in certi passaggi sto abbassando la voce del cantante in altri allora desidererei che anche il reverbero sulla voce del cantante segua questo andamento perché altrimenti se io alzo il fader o abbasso il fader e il reverbero rimane invariato si sballano queste proporzioni cioè se io abbasso il fader anche a meno infinito quindi virtualmente spengo l'uscita diretta del canale l'uscita asciutta del canale di voce continua a desistere l'effetto del riverberatore che è una cosa anche artisticamente che può avere un suo senso ma in linea di massima è un approccio che tra virgolette può essere definito come sbagliato quando si crea processi di colore con le mandate ausiliarie in realtà in amore in guerra e in mixaggio tutto è lecito e non ci sono regole una mandata posta a 0db questa è una cosa interessante da tenere a mente non apporta né perdita né guadagno di livello diventa in pratica semplicemente uno splitter quindi se io se rigraffato sul mixer un numeretto che mi indica lo 0db so che muovendo la mandata ausiliaria fino a che il cursore raggiunge il livello di 0db il segnale che viene inviato al bus ausiliario avrà lo stesso identico livello del segnale che esce sui bus left right della console dosato dal fader quindi il fader alzo il fader aumenta anche il livello nella mandata ausiliaria abbasso il fader il livello diminuisce anche nella mandata ausiliaria abbiamo detto che i bus ausiliari sono identici in tutto e per tutto a tutti gli altri bus della console quindi al bus di solo al bus left e right e quindi ad ogni bus corrisponde per forza un'uscita fisica un connettore fisico sul retro del mixer un controllo di livello master ed un pulsante di mute ad esempio e quindi in definitiva possiamo dire che non esiste un unico modo per utilizzare le mandate ausiliarie le mandate ausiliarie possono essere utilizzate con estrema fantasia in base a quello che mi serve l'esempio che abbiamo appena fatto è quello del caso in cui si può dosare la quantità di riverbero per ogni strumento quindi su ogni canale io ho un potenziometro dosatore che invia segnale sul bus ausiliario se poi l'uscita del bus viene collegata all'ingresso di un processore come ad esempio un reverberatore e le uscite left e right del reverberatore vengono collegate su due canali liberi della console ecco che ho ottenuto un certo bilanciamento di processi indicolore in pratica sto facendo entrare vari strumenti sto collocando virtualmente vari strumenti in un ambiente attenzione perché quando si utilizzano le mandate ausiliarie per questo scopo e si effettuano questi tipi di cablaggi bisogna porre attenzione a che sui canali di ritorno del riverbero non vengano aperte non venga aperta quella determinata mandata altrimenti si crea un loop e possiamo anche bruciare delle macchine costose se sostituisco il processore d'effetti con un ampli a cui è collegata una cassa tadan questa suona anche in questo caso posso utilizzare le mandate ausiliarie come mi pare a me se al posto di una cassa ci collego un paio di cuffie o un amplifon lo decido io l'importante è sapere che con le mandate ausiliarie posso creare dei bilanciamenti diversi da quello che sta sentendo il pubblico che sente il bilanciamento effettuato con i fader sul sui bass left e right per capirsi in pratica posso creare tanti bilanciamenti tanti mixaggi quanti sono i bass ausiliari su una console tutti quanti differenti e tutti utili allo scopo che mi serve ad esempio in caso di concerti per così dire di serie b con un unico mixer si gestiscono gli ascolti sia front of house che monitors quindi sia la parte public address quindi la parte dell'impianto che viene indirizzato verso il pubblico che la parte di spie per così dire o comunque di personal monitor dei musicisti sul palco in situazione invece live di serie a ci sono due postazioni mixer una fuori front of house e una monitor con due mixer differenti il mixer front of house con un certo tipo di ergonomia mixer monitor con la disposizione di alcuni elementi in maniera differente per agevolare il compito del fonico che sta facendo i suoni in spia ai vari musicisti e quindi sono due postazioni completamente diverse invece concertini un po più con meno budget c'è un unico un mixer che gestisce entrambi gli ascolti e lo fa proprio attraverso le mandate ausiliarie ogni musicista infatti ha delle esigenze specifiche di ascolto quindi necessita di un particolare bilanciamento degli strumenti ad hoc per lui ad esempio il batterista ha delle esigenze più ritmiche quindi per trovare appoggio avrà necessità di avere in ascolto predominante il basso ad esempio le chitarre ritmiche e magari potrebbero servirgli di meno la voce o le tastiere ecco viceversa un cantante invece anzitutto deve preservare la voce perché se lui non ha la voce il gruppo non suona il service non lavora le date non si fanno i biglietti devono essere rimborsati quindi anzitutto in spia al cantante va messa un sacco di voce in maniera che il cantante si senta e non debba sgolarsi e oltretutto è indispensabile che il cantante faccia una buona performance e quindi canti intonato per cantare intonato non gli serve avere in spia il charleston o il rullante piuttosto gli servono le chitarre le tastiere quindi la parte armonica sulla quale adagiarsi appoggiarsi ai musicisti perciò non interessa quello che avviene a livello di ascolto nel front of house e perciò se io fonico esterno quindi fonico in front of house decido di fare dei cambiamenti di livello per esempio mi accorgo che la voce del cantante è troppo alta e abbasso il fader della voce desidererei che il cantante in spia non sentisse questo mio intervento cioè il fader in questo caso la mandata ausiliaria in questo caso non deve essere vincolata al fader deve essere svincolata in questo caso si utilizza un tastino posto in zona mandate ausiliarie con serigrafia pre e post cioè solitamente nei mixer grossi vicino ad ogni potenziometro di mandata ausiliaria è presente questo switch che mi dà la possibilità di far prelevare il segnale che viene inviato al bus ausiliario pre fader quindi prima dell'attenuazione del fader e quindi svincolato dai movimenti di fader che che vengono effettuati oppure post fader proprio come nel caso del processing di colore diamo un'occhiata ora la disposizione ergonomica dei vari elementi che abbiamo incontrato che sono riassunti nel diagramma a blocchi di sinistra sul mixer abbiamo detto che gli elementi che trovo sul pannello sono disposti in maniera differente rispetto a il percorso che effettua internamente il segnale questo proprio una questione di praticità e lo ripeto di ergonomia prendiamo ad esempio questo piccolo mixer diciamo semi professionale per live questo è un mixer pensato concettualmente per lavorare in live allora vediamo che il pre amplificatore tutto sommato è all'inizio della della catena in effetti da un punto di vista pratico io opero la pre amplificazione all'inizio del concerto nel sound check e dopodiché me ne posso anche dimenticare se la pre amplificazione è stata realizzata in maniera corretta e quindi quella striscia di potenziometri che sono i gain possono anche stare lontani dall'operatore il pulsantino subito sotto è un pulsantino che fa riferimento all'equalizzatore quindi ai filtri e il filtro passa alto anche questo è messo in posizione lontana dall'operatore perché l'operatore non dovrà in continuazione attivare o disattivare il filtro perché lo si fa una volta sai già che il microfono del cantante soffre di effetto prossimità attivi il filtro in automatico e te ne dimentichi quindi non è una cosa artistica è un è una procedura diciamo più più tecnica la fai una volta all'inizio del concerto e poi te ne dimentichi il modulo di potenziometri subito sotto a questa parte qua è la parte di mandate ausiliarie che noi abbiamo studiato essere alla fine del percorso del segnale quindi il percorso è già stato pre amplificato equalizzato pampottato passa il mute a seconda delle configurazioni comunque le mandate ausiliarie sono l'ultima cosa che abbiamo abbiamo studiato per il momento invece nel mixer da live le mandate ausiliarie vengono poste subito dopo la sezione di pre amplificazione anche qua il concetto è che è molto più utile avere gli equalizzatori più vicini all'operatore perché è molto probabile che durante il concerto e oltre che durante il soundcheck ma anche durante il concerto il il fonico lavori con gli equalizzatori piuttosto che con le mandate ausiliarie e comunque in ogni caso le mandate ausiliarie sono sono sempre raggiungibili diciamo da facendo dieci centimetri in più in questo mixer e facendone magari 50 in un altro in un altro tipo di mixer dopodiché troviamo che all'utente subito prima dei fader vengono presentati i pulsanti di pan mute e solo che in realtà nel nostro diagramma di percorso del segnale entrano in funzione dopo la l'attenuazione del del fader quindi dopo l'intervento del fader in questo caso sono scambiati i fader sono la parte che sicuramente il fonico muoverà di più sulla quale interverrà di più durante il concerto e quindi vengono messe proprio a ridosso del dell'operatore in maniera del non dover scavalcare centomila potenziometri per andare a regolare il livello perché tanto so già che il livello viene ritoccato in continuazione e quindi possiamo da questo schema possiamo dedurre che proprio la disposizione ergonomica è completamente differente da ciò che avviene internamente da come il segnale transita attraverso i vari stadi all'interno del mixer bene detto questo possiamo finalmente parlare di gruppi audio